Ok, dovrebbe andare tutto Ciao ragazzi Era da un po' Scusate, stavo un attimo aprendo un pochetto Su pochino un pochetto In realtà hanno aperti due, non ho trovato un cazzo come al solito Era da un po' che avevo in testa di Voler fare Vlog Esiste ancora a studermi? Non lo so E così Senza montaggio, senza niente E un po' anche preso dalla Dalla passione Recente Per i video di Nanni Che sto apprestando moltissimo Io Nanni non l'ho mai seguito ma Onestamente, se non Per quelle collaborazioni con Dari insomma Però onestamente i suoi video su YouTube mi stanno piacendo molto E ho pensato ma sai forse Dovrei fare pure io qualcosa del genere A tempo perso E voi direte perché il video di oggi? Ma in realtà precisamente Non lo so neanche io Forse come scusa per fare il punto Della situazione per tante cose Perché È un periodo particolare Un periodo in cui stanno succedendo tante cose Principalmente brutte cose Un periodo in cui non me la passo proprio Allegramente Però Alla fine tutti Abbiamo i nostri problemi Ognuno ha le sue cose Ognuno ha la sua quotidianità Ognuno ha le sue Battaglie da Compire E i suoi scontri insomma Da portare a termine Che siano emotivi Fisici Salutari Salutari Vabbè Problemi di salute si intende Salutare è un'altra cosa Vabbè mi avete capito Sapete che non so parlare Mi è venuta voglia Di fare Questo video stasera Non so quando lo caricherò Non so se lo caricherò Io nel dubbio Ne approfitto Di questo mio desiderio Di aprirmi E Stasera sono andato a mangiare Al A un ramen Qui sotto casa Vicino a casa mia A un quarto d'ora Circa Sapete quei classici localini Che Sono tutti pieni Di roba anime Manga Piattirà Clientela Però è buono Aveva pochi posti a sedere Non troppe cose nel menù Poi Il padrone Il cuoco cucinava Sul bancone Quindi tendenzialmente sono Sintomi di qualità Da che io ne sappia Non sono esperto di ristorazione Però a naso Mi viene da dire Che se uno ti cucina in faccia Saprà quello che sta facendo O magari da per scontato Che siamo tutti fessi Chi lo sa Però vabbè Sono andato da solo A mangiare Voi direte Beh È vero Beh Non è veramente un cazzo di nulla Però non credo di averlo mai fatto In vita mia E almeno da quando sono a Lecce Sicuramente non l'ho mai fatto Forse mi sarà capitato Di prendere una pizza da solo In pizzeria in paese Per un motivo o per un altro Però Questa cosa nello specifico Non l'ho mai fatta E come vi dicevo prima È un periodo un po' Pesante Particolare E non so perché Fare questa cosa Mi ha fatto sentire meglio Uscire di casa Farsi la passeggiata Andare al locale Chiedere Tavolo per uno Ok Ti siedi Mi hanno messo a sentirmi poi La lufufu Di Mario Stognolo Sui cani Questo mi sono messo a fare Mentre mangiavo il ramen Buono Poi la sto scoppiando Comunque Porco due Bello pesante E mentre tornavo a casa Vabbè Anche quando andavo Però diciamo che Erano pensieri Meno razionalizzati Sapete Quando Sei preso Dall'onda degli eventi Per cui fai difficoltà A tenere traccia Di ciò che passa Nella tua testa Pensieri che vanno e vengono Anche emozioni Che traballano Oppure che fanno su e giù Come se nulla fosse Mentre mentre tornavo a casa Mi sentivo più razionale Mi sentivo più tranquillo Come se D'aver fatto questa cosa Mi avesse fatto sentire Grato Perché comunque Le cose mi vanno bene Nel senso Ho una casa Ho una famiglia Che mi vuole bene Ho degli amici E Tutto sommato Ho detto Vabbè Oggi ho mangiato Oggi ho mangiato Che non è una cosa Scontata ovviamente No? Potersi permettere Il lusso di mangiare Mangiare fuori Addirittura Poter uscire di casa Per conto proprio Fare una spesa Superflua Per un pasto Che Potevi tranquillamente Evitare No? Soprattutto nella mia Di condizione Per cui potrei addirittura Andare a mangiare Gratis In mensa E' una cosa Di cui essere Grati Immagino Poter Concedersi Uno sfizio Di questo tipo E' un periodo In cui Mi sto anche Dando tanto da fare In realtà Sto lavorando Parallelamente A due progetti Diversi Ah Sì Oltre Ovviamente All'università Con cui Su cui forse Dovrei puntare Un attimino di più L'acceleratore E lasciar perdere Un po' le altre cose Però Forse come compensazione A un disagio emotivo Che provo io E Sento il bisogno Di dover lavorare Su alcune cose Che avevo lasciato In sospeso In passato Nella speranza Di portarle a compimento Una volta per tutte A differenza Di come ho fatto sempre Perché non riesco Purtroppo a finire nulla Che si tratti Di letture Che si tratti Di visioni Che si tratti Di visioni Nel senso Che sono allucinato Visioni nel senso Cose da vedere Come una serie tv Per intenderci Quindi figurarsi Per un qualcosa Per cui mi devo Mettere attivamente A ragionare Per poterla Portare a compimento Sempre fatto Difficoltà Con queste cose Però Vediamo Vediamo se riesco A cavare un ragno Dal buco Anche solo per Sai Sapete Impostarle Sulla carta Dire ok Ho questa cosa pronta Quando avrò L'opportunità La faccio Oppure Avere qualcosa Da cui partire Insomma Da tenere pronto Da poter presentare A qualcuno Alla fine Faccio il dance Per un motivo Si spera Per poter lavorare In questi ambiti No? D'altronde E quindi Al netto Di tutte Le brutte cose Le cattiverie Le situazioni Diciamo Irrisolte E le delusioni Che sono parte Della vita Di tutti Ovviamente Chi più Chi meno Chi in maniera Maggiore Chi in maniera Minore In maniera Maggiore Non credo si dica In misura Maggiore In misura Minore Questo volevo dire Perché ovviamente Ci sono delusioni E delusioni Però ognuno È il suo La vita è fatta Anche di questo No? Fatta di tante cose Tante belle Tante brutte E purtroppo Siamo Viviamo in un contesto Di società Che fa Facilmente Perdere il focus Sulle cose Belle E puntiamo Tanto Il Monocolo O la lente Di ingrandimento In realtà Mi sembra Una etafora Più adatta E Sulle brutte cose Che ci accadono Ci dimentichiamo Poi Quanto Possiamo trarre Giovamento Dalle piccolissime cose Come può essere Andare a mangiare fuori Che per noi Spero che Sia anche Per tu Che mi stai guardando Per voi Che mi state guardando Possa essere anche Per voi Una piccola cosa E non una grande cosa Nel senso che Economicamente parlando Vabbè Mi avete capito Dai Non c'è bisogno Di dovermi dilungare Oltre su questa questione Non l'ha Ragazzi Tenete duro Io sto tenendo duro Continuerò a tenere duro Continuerò ad impegnarmi Su Twitch Al netto Del numero Degli spettatori Anche se sarete 3 2 1 Continuerò A fare quello Che ritengo giusto Fare per me Che funzioni o meno Solo perché Ritengo giusto farlo Continuerò a cercare Di fare di meglio Con le università Magari Cazzeggiando meno Mannaggia a me Cercherò di tenere duro Anche per Quelle che sono Le mie ambizioni I miei progetti Le mie idee Le mie cose Quello che ho intenzione Di fare Nella speranza di farlo E in caso Di non farlo solo Perché Lo ritenevo necessario E per il resto Come dico io di solito Dio vede Provvede Si vedrà Non vanno le cose Mangiate Che è importante Tanta gente Se lo dimentico Ormai Mangiare serve Ti aiuta Ti fa bene Anche al cervello Va bene a tutto E anche se pensate Di non avere motivo E anche se pensate Di non avere motivo Per esserlo Come lo penso In questo periodo E come lo pensavo Ma in realtà Come lo penso Perché ancora Le cose non si risolvono Da un pasto All'altro Magari E siate grati Di quello che avete Ma anche se non avete nulla Siete grati Di avere voi stessi Non so se caricherò Questo video Io nel dubbio Vi ripeto Vi auguro il meglio Magari non usciranno Altri Se lo carico Ciao Grazie a tutti